Nasciamo come azienda piccola artigianale nel 2009, completamente made in Italy, molto importante. Adesso siamo una realtà molto allargata e ci allarghiamo sempre di più. Strutturiamo le nostre collezioni su quelle che sono i feedback del mercato, cerchiamo di proporsi a dei negozi medio-alti. Noi puntiamo molto sul nostro brand, sulla nostra immagine e quindi per noi il marketing e il brand sono dei punti di forza imprescindibili da tutto il prodotto. Genesia è tra i primi marchi nel mercato nazionale nel settore perle, nel settore gioiello. Questo processo e questo feedback ci hanno permesso di azzardare, tra virgolette, di intraprendere una strada di internazionalizzazione che per noi era inevitabile e quindi andava a prendere. Siamo partiti a ottobre con un partner che ci ha affiancato in questo processo ambizioso e che sta già dando degli ottimi risultati. Siamo nei migliori negozi in Medio Oriente, negli Emirati, Dubai, e quindi nella location numero uno, tra virgolette, nel settore gioielleria e del lusso a livello mondiale. La nostra presenza al Bulger Hub a Dubai è inevitabile che per noi è un trampolino di lancio che ci ha dato la carica, ci sta dando veramente una forte carica emotiva e ci fa pensare che stiamo facendo bene per sviluppare altri mercati. Con la banca stiamo già lavorando su altri paesi dove iniziare un processo di internazionalizzazione ancora più importante.